Eccoci amici, buonasera, buonasera, benvenuti all'ultima puntata di Concetta, chiudiamo in bellezza, in bellezza, allora tocca a te come Cefalù, scegliere il pacco dal, diciamo dal compagno, e dobbiamo chiudere col botto, Cefalù, ok, futuro sposo, ovvero Dario, ciao Dario, e viva Concetta! Guardate cos'è capitato, il 5 mila, gamma completa da 0 a 300 mila euro, e la speranza, che è anche la vostra volontà, è quella di conservare i 0 euro, ovviamente. Dottore, buonasera, e la faccio salutare dal dottore, dottore, un applauso al dottore, primo bivio ai prossimi sposi di Cefalù, offerta, 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 vediamo cosa ci propone, offerta, e gli sposi hanno bisogno di offerta, bellissimo, va bene, il dottore gli dice, cambio. 20 mila euro, sono 20 mila euro, tre tiri, sono pure tre tiri, cioè, è incredibile. Ma cos'è sto telefono, forza? Dai, 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 non è successo niente. Mamma mia, dottore. Forza Dario, dai Dario. Dario, era ora! Dai, Dario! Da quante puntate sei qui, Concetta? 12 25 puntate. Quante? 9 Quante puntate? Dai, 200 Allora, questo non è un villaggio turistico, quindi ti prego di rispondere in maniera seria, per rispetto di chi è anche in fianco e di chi ti segue da casa. Grazie. Va bene, dai, proviamo ad andare avanti, dai. 18 le mila e Romagna. 18 le mila e Romagna. Oh! Oh, su, oh, su. Secondo voi, quale delle nostre 100 regioni che lampeggiano è la regione fortunata tra Lazio, Liguria e Toscana, Concetta ha scelto l'Umbria. La regione fortunata non è la Sardegna, non è la Sicilia, non è l'Abruzzo, non è l'Abruzzo, non è l'Abruzzo. Non è l'Abruzzo. Le regioni rimaste. Oh, la la. L'Abruzzo, 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 e l'Abruzzo, e l'Abruzzo. La regione fortunata di questa sera? Verifichiamo. Ottimo, ottimo. People from Ibiza. Calma che non è finito, non possiamo, non possiamo cantare vittoria. Bene, vi auguriamo buon'estate. Ci vediamo. People from Ibiza. Vai, vai. People from Ibiza. Ibiza, wonderland. Ancora, one, again. Oh! People from Ibiza. People from Ibiza. No, 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 no. Grazie.